la regina ha diverse confidenti che ricoprono il ruolo di dama di compagnia allora qual è il ruolo delle dame di compagnia della regina la cara amica e dama di compagnia della regina diana lady farnham è morta nel dicembre 2021 all'età di 90 anni lady farnham ha servito come lady of the bed chamber per più di 30 anni essendo stata nominata dama di compagnia alla regina nel 1987 si dice che la regina sia devastata dalla morte di lady farnham morta meno di un mese dopo un'altra delle dame di compagnia della regina la duchessa di grefton una fonte reale ha detto al telegrafo è molto triste per la regina tutti amavano lady farnham era sempre così di buon umore era anche una donna molto affascinante e attraente era sempre molto generosa con le nuove persone che si univano alla famiglia punto non è stato un buon anno per la regina perdere suo marito e poi la duchessa di grefton e ora lady farnham oltre a servire la regina in veste ufficiale le dame di compagnia della regina sono di solito anche amiche intime del monarca la fonte reale ha aggiunto erano cari amici che hanno sostenuto la regina nei doveri ufficiali purtroppo una triste conseguenza del vivere una vita lunga è che devi dire addio a molte persone a cui tieni punto cosa comporta il ruolo di dama di compagnia il ruolo di dama di compagnia esiste in gran bretagna da secoli e spesso le dame di compagnia provengono dalla nobiltà le dame di compagnia assistono la regina nei suoi doveri ufficiali in quanto tali possono essere incaricati di assistere nell'esecuzione di commissioni e di occuparsi di questioni personali punto le dame di compagnia possono anche occuparsi di parte della corrispondenza del monarca ci sono ruoli specifici che alcune dame di compagnia ricoprono incluso il ruolo di mistress of the robes la mistress of the robes è responsabile della gestione del guardaroba della regina mentre la woman of the bed chamber è anche responsabile dell'aiuto al monarca a vestirsi